Musica Cari amici e amiche di City Report, Tullio Trapasso dove ci troviamo oggi? Stiamo continuando a visitare il municipio 8 in questi giorni di grandissima pioggia a Milano, questo è lo stabile che vi abbiamo presentato qualche mese fa, quello di via Beniamino della Torre appunto di MM Case che presenta diverse infiltrazioni d'acqua, alcune molto vistose che vedrete nei filmati a seguire. Andiamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cari amici siamo in via Beniamino della Torre 1 nel municipio 8 di Milano, Lombardia, Italia, anno 2019. Come sapete ci sono state degli acquazioni, delle alluvioni, niente di grave ma purtroppo la città è bloccata ma soprattutto oggi ci troviamo qui perché cosa succede in questo stabile che vi abbiamo già fatto vedere qualche mese fa di MM Case? Lo chiediamo a Tiziana che abita qui e che sta subendo i disagi. Cos'è successo oggi con queste piogge? Pioveva in casa dal tetto, dalla terrazza, lo scroscio d'acqua fino al pavimento, fuori era una cosa che non si può immaginare, il pianerotolo era cosparso da pozzanghere, cioè sembrava di essere in strada ma la cosa più allarmante è l'acqua che scende sul muro all'interno dell'appartamento. Perché tu ne hai parecchie, stiamo vedendo adesso le immagini. Io ne ho tra bagno e interno, ne avrò tre di infiltrazioni, già segnalato, già fatto vedere ma non c'è soluzione al problema. E' venuto una volta un incaricato dell'MM, ha guardato, basta, fine dell'episodio. E quindi stasera che continuano le piogge temi che possa succedere qualcosa? Certo, temiamo che domani mattina ci sarà la solita situazione. Ecco, vi posso dire, grazie Tiziana, vi posso dire che è una situazione incresciosa, perché come già vi abbiamo detto le altre volte, sono palazzi costruiti 11 anni fa. Oggi siamo stati a vedere degli altri palazzi costruiti 40 anni fa, che queste problematiche non le hanno, se non nelle parti inferiori, nelle parti sotterranee, ma le case, a detta di tutti, sono perfette. Sono sempre gestite da MM, sono sempre case popolari, per cui ci chiediamo che cosa è successo qui? Perché non ci vengono date delle risposte chiare, chiarificatrici, ma soprattutto delle soluzioni? Perché da quello che i cittadini mi hanno fatto vedere, delle varie mail di risposta che hanno avuto sia da MM case che dagli interessati appunto della proprietà, quindi il comune, il municipio, eccetera, ma le risposte sono abbastanza fumose, diciamo ci stanno, ma sono fumose, non portano una definizione a questo problema che è vissuto da molti. Comunque adesso continuiamo, andiamo a fare un giro e vi facciamo vedere delle altre cose. Comunque adesso continuiamo, andiamo a fare un giro e vi facciamo vedere. Comunque adesso continuiamo. Comunque adesso continuiamo a fare un giro e vi facciamo vedere. Cari amici e amiche, siamo nel municipio 8 di Milano, stiamo proseguendo un piccolo sopralluogo in questa giornata piovosa dove tutto è allagato, ma quello che ci stupisce è che ci sono anche le case allagate, le case che rischiano di diventare veramente una situazione invivibile, ci sono dei danni e qui abbiamo delle persone che stanno subendo questa cosa, nonostante credo vado a fargli una domanda. Buonasera. Buonasera. La stiamo disturbando la domanda che le voglio fare è, ma lei paga un affitto per stare qui, giusto? 500 euro al mese, non è che pago niente, che poi ho dovuto sospendere perché loro non mi danno niente e adesso ho ripreso a pagare subito, appena ho recuperato i miei soldi, ho cominciato a pagare ancora l'affitto. Aspetto che loro mi pagano e me ne vado in banca e pago i mesi di effetto. Ecco, perché vi spieghiamo un attimo cosa succede, se no magari andiamo in confusione. Siccome questa situazione direttamente per la costruzione fatta male o per l'inciviltà di persone ha già creato dei danni, si è già trovata ad avere dei problemi per sistemare la sua casa dopo dei danneggiamenti che ha avuto direttamente da condomini, chiamiamoli condomini. Adesso però il problema è che qui c'è un danno devuto proprio alla costruzione dell'edificio. Lo notate tutti, ce l'avete segnalato tutti, tutti ci avete detto incredibile, 11 anni di palazzo conciato così. Beh, ecco, questo è un altro appartamento e ci sono delle persone vere che vivono qui. Questi non sono palazzi costruiti così, tanto per mettere un pezzo di cemento su un terreno, no. Ci sono delle famiglie che vivono. Fra l'altra adesso ti sta entrando l'acqua, tu lo sai che adesso pioverà ancora per un paio di giorni. Cosa succede qua? Non lo so, sarà un disastro. Ho paura che mi venga giocato tutti i carri in seni lì. Perché l'altra volta mi hai detto che ti è venuto giù, tua moglie, e mi ha detto che è venuto giù un quadro. Un quadro è grande, guarda. Ci ho andato i gommini lunghi così, era talmente marcio un muro che è venuto giù tutto il quadro. Ho spaccato tutto, ho spaccato. Però se sotto c'era la bambina... Ecco, stavo dicendo giustamente la nipotina, una persona che viene a trovarti, è anche pericoloso, al di là che viverci fa male alla salute. Comunque, per ora ci fermiamo qui, avete visto una parte, continuiamo, facciamo vedere tutto, perché è giusto che il comune, la proprietà MM, prenda le sue responsabilità. Perché questa non è una cosa casuale, capita sempre, quindi come abbiamo già verificato l'altra volta, il danno è veramente... Scusate, io questa mattina ho telefonato la prima volta a 20 minuti al numero verde e non risponde nessuno. Nel pomeriggio... Scusami, il numero verde è di chi? Delle MM. MM case. Sì. Nel pomeriggio, un quarto d'ora di seguito e non mi ha risposto nessuno. Dopo mezz'ora ho telefonato ancora un quarto d'ora e non risponde nessuno. 24 ore, 24 dicono. Stradamente, magari se dovevi pagare invece erano subito pronti. Sì, ma allora cosa devo fare? Che telefono? E queste sono le problematiche vere di una città che vuole fare le Olimpiadi nel 2026. Va bene, salutiamo il nostro amico. Grazie. Tanti auguri, speriamo in bene signora, tanti auguri anche a lei, andiamo avanti, grazie. E questo è l'ingresso di Beniamino della Torre, il biglietto da visita, come vedete stanno arrivando anche le persone, entrano da qui. Insomma, uno spettacolo squalificante e sicuramente non fa bene a Milano, non fa bene sui cittadini. Ci fa capire che questa amministrazione, chi gestisce queste case, non sta lavorando bene. Andiamo avanti. Cari amici, siamo passati dal dodicesimo piano al secondo e adesso siamo al pian terreno. Guardate qua. Direi che è ben visibile il tutto, si vedono anche le gocce perché sta ancora gocciolando Milano piove oggi. Direi che per oggi possiamo chiudere qui con tanti dubbi e con tante richieste, come avete sentito, dei cittadini che vogliamo abbiano una finalità, abbiano una concretizzazione. Ci dovranno essere delle risposte e noi cercheremo di farvele avere. Seguiteci con Paolo Rusconi, City Report, Tullio Trapasso. Andiamo avanti. Grazie a tutti.